In questa lezione parleremo di regressione lineare semplice, è un'applicazione dei modelli lineari nei parametri che abbiamo visto ed è forse l'applicazione più classica, quella in cui abbiamo una variabile x e una variabile y e il nostro obiettivo è quello di stimare un modello di tipo lineare, ovvero una retta che approssima i nostri dati. Dal nostro punto di vista è un caso particolare di cose che abbiamo già visto e quindi per noi diventerà anche un modo per rivedere l'applicazione dei metodi che già conosciamo, oltre che per stimare il modello, anche per ottenere gli intervalli di confidenza e poi per discutere la selezione del modello. In particolare qui consideriamo un problema di selezione in cui la scelta si pone tra il modello costante e quindi in cui la y non dipende dalla x è un modello lineare in cui c'è una dipendenza lineare della y nei confronti della x. Ecco, allora partiremo da un problema pratico preso da un classico testo di statistica di molti anni fa, quello scritto da Box Hunter e Hunter e in questo testo si propone questo problema di regressione lineare semplice in cui sono stati effettuati degli esperimenti di saldatura. È una saldatura in cui il calore, per ottenere la saldatura, viene generato tramite una rotazione, quindi c'è una parte rotante messa a contatto con un'altra finché non si forma una saldatura a caldo. Ecco, quello che è stato modificato negli esperimenti è stata la velocità, quindi sono state fatte diverse saldature con diverse velocità di rotazione e qui in questa colonna potete vedere le velocità di rotazione e per ogni saldatura poi si è analizzata la forza di rottura, quindi si è esercitata una forza sulla saldatura finché la saldatura non si è rotta e in questa seconda colonna avete le forze di rottura necessarie a rompere la saldatura. Come potete vedere non è esattamente sistema internazionale per unità di misura, d'altronde diciamo vengono dal mondo anglosassone ed eravamo nel 78, ma dal nostro punto di vista diciamo non fa grande differenza. Qui c'è la media delle x, la media delle y, la media è proprio la solita formula della media aritmetica. Ecco, nel corso di questa analisi noi vedremo delle formule che coincidono con le formule degli stimatori che voi conoscete. Tuttavia i risultati di queste formule non vanno interpretati necessariamente, qui in effetti non vanno interpretati, come stime di momenti. Infatti le x che noi qui vediamo non sono delle x che sono state estratte da una variabile casuale, quindi non si tratta di realizzazioni di una variabile casuale, ma si tratta di x che sono state imposte in un esperimento, quindi sono state decise dallo sperimentatore. Quindi questa x segnato è semplicemente una media aritmetica, non va intesa come il momento di una presunta variabile x. Al limite potrebbe essere una specie di media, di una distribuzione empirica, però questa distribuzione empirica è una distribuzione costruita da chi fa l'esperimento. Un discorso analogo vale per la y. Abbiamo sette dati e abbiamo sette coppie x y. Andiamo subito a vedere come si presentano i nostri dati. Ecco, non mi stancherò mai di dire che quando possibile bisogna sempre andare a vedere i dati perché l'ispezione visuale fornisce molte informazioni. Allora qui vedete che avete la velocità, la forza di rottura e qui abbiamo i nostri dati sperimentali. Qui ho già disegnato la regressione lineare, ma in realtà noi adesso dobbiamo fare tutti i passaggi per arrivare a stimare i parametri che caratterizzano questa retta. Ecco, come vedete i dati, le cose che si notano è che è stato ripetuto due volte l'esperimento con velocità 2,5, è stato ripetuto tre volte quello con velocità 3 e come è naturale i risultati poi non sono identici, quindi diciamo c'è chiaramente un errore sulla variabile osservata y, quindi se voi ripetete l'esperimento non ottenete lo stesso risultato. A occhio si vede che sembrerebbe esserci una dipendenza della forza di rottura rispetto alla velocità. Ecco, diciamo questo è un esperimento abbastanza classico, quindi rappresentativo di cose che accadono nel mondo reale, quindi si effettuano delle prove, si fa variare una variabile indipendente, in questo caso la nostra velocità, che funge da causa, così, e si va a vedere l'effetto, in questo caso l'effetto è la forza necessaria a rompere la saldatura. E l'obiettivo, una volta raccolti i dati, è avere un modello che leghi queste due variabili, ma tale che io possa anche valutare quale sarà la forza di rottura se, per esempio, usassi una velocità di 2,25, che invece non è stata usata negli esperimenti. Ecco, allora considereremo due modelli. Il primo modello, che diciamo in qualche modo anche il più naturale, è un modello di dipendenza lineare, quindi y con i θ1 più θ2x con i più v con i, v con i, diciamo, è l'errore, perché per quanto il modello sia buono, abbiamo detto, c'è sempre una certa dose di aleatorietà nei nostri dati, dei disturbi, dell'errore di misura, e noi potremmo benissimo procedere con questo modello. In realtà, per questo problema di regressione semplice, c'è una seconda parametrizzazione che è del tutto equivalente e che però ci semplifica i calcoli e produce delle stime che sono anche più facili da ricordare a memoria. Quindi, invece che usare questa parametrizzazione, useremo questa seconda parametrizzazione. Non che questa sia sbagliata o cattiva, però diciamo, noi abbiamo qualche vantaggio a usare questa parametrizzazione. Anche voi, se avete un problema di questo tipo, potete decidere quale delle due adottare. In questa ho sempre θ1, però qui ho θ2x con i meno x segnato. È come se avessi cambiato l'origine delle x. Quindi, invece che tenere l'origine, quella di partenza delle x, uso come origine la loro media aritmetica. D'altronde, io le x le posso considerare date a questo punto, quindi posso, per esempio, calcolare la loro media aritmetica e usare come origine adesso questa media aritmetica. Questo ci porterà a qualche vantaggio pratico. Vediamo questo secondo modello in forma matriciale. Per mettere il modello in forma matriciale, come ricordate, basta riscrivere il modello tante volte quante sono le osservazioni. Quindi scriverò y1 uguale θ1 più x1 meno x segnato θ2 più v1. Ecco, qui per comodità metto 1 per θ1, poi ripeto per y2 fino a yn e, quando scrivo il modello in questa forma, poi dopo vado a vedere in forma matriciale quali sono le matrici φ, θ, v e y che mi permettono di scrivere in questo modo. Ecco, i colori sono stati usati in modo tale da facilitare il riconoscimento di diverse matrici. Beh, ovviamente il vettore delle y, il vettore delle v è banale, il vettore dei parametri θ è pure facile e la matrice φ ha una colonna di uni che è legata all'intercetta e questa colonna è x1 meno x segnato, x2 meno x segnato, xn meno x segnato. Se non avessi spostato l'origine avrei avuto x1, x2, xn e andava pure bene, però come vedrete tra un attimo avere scelto questa parametrizzazione ci darà qualche vantaggio. Ecco, partiamo con la stima di mini quadrati, quindi vuol dire che non facciamo particolari ipotesi sulla distribuzione dei dati, quindi semplicemente cerchiamo una retta che passa vicino ai dati sperimentali e la stima di mini quadrati ha questa espressione. Ecco, nel seguito useremo la formula della varianza campionaria, quindi s quadro x è 1 n meno 1, la sommatoria dell'x con i meno x segnato al quadrato. Come vi dicevo prima, usiamo questa formula ma non dobbiamo non necessariamente il risultato è da interpretare come una varianza, una stima di una varianza perché dicevamo le x in questo contesto in certo senso sono deterministi che non sono estrazioni di una variabile casuale. È lo sperimentatore che ha deciso quali valori di velocità applicare per fare le prove di saldatura. Ecco, però quando faremo i conti ci tornerà utile, diciamo, ricordare che questa formula in maniera sintetica viene scritta come s quadro x. Ecco, allora, fi trasposto fi, qui vedete scrivo, qui avrò 1 per 1 più 1 per 1 più 1 per 1 n volte, questo è il risultato, seconda riga per seconda colonna è x1 meno x segnato al quadrato più x2 meno x segnato al quadrato più xn meno x segnato al quadrato e quindi questa sommatoria qui. Invece il termine incrociato è 1 per x1 meno x segnato, poi abbiamo ancora, quindi ho x1 meno x segnato più x2 meno x segnato più xn meno x segnato, quindi sostanzialmente ho meno n volte x segnato e qui ho la sommatoria degli x con i. Questo termine è inutile che vada calcolato perché per ragioni di simmetria è sempre uguale a questo, lo potete verificare in un attimo, quindi mettiamo un asterisco per indicare che è uguale a questo. Ecco, per quello che riguarda questo termine, vedete questo, qui avete la sommatoria degli x con i, ma la sommatoria degli x con i può essere vista come n volte la sommatoria degli x con i diviso n, ma la sommatoria degli x con i diviso n è l'x segnato, quindi avete n volte x segnato e quindi avete nx segnato meno nx segnato, quindi è 0 e pertanto fi trasposto fi è una matrice diagonale. Ecco, questo è uno dei benefici di aver usato quella parametrizzazione. Con la parametrizzazione che abbiamo scelto abbiamo trovato che fi trasposto fi è diagonale e questo tutto sommato ci fa piacere perché poi dobbiamo anche calcolare l'inversa, quindi dovremmo solo calcolare l'inversa di una matrice diagonale. Calcoliamo anche fi trasposto y, quindi qui scrivo di nuovo fi trasposto, qui ho il vettore delle y, quindi ho prima riga per prima colonna, y1 più y2 più y1, 1 per y1 più 1 per y2 più 1 per y3 più puntini puntini 1 per yn, quindi la sommatoria delle y. E qui invece avrò x1 meno x segnato, chiusa parentesi per y1, più parentesi x2 meno x segnato, chiusa parentesi per y2 e così via, quindi la sommatoria delle x1 meno x segnato ognuno moltiplicato per il suo y. Ecco, questo è n volte l'y segnato e questo invece si può vedere che è n meno 1 volte sxy. Cos'è sxy? È la covarianza campionaria. In maniera simile alla varianza campionaria si definisce anche la covarianza campionaria, quindi si fa la sommatoria delle x con i meno x segnato per y non i meno y segnato, il tutto diviso n meno 1. Tuttavia, uno dice, vabbè, n meno 1, l'n meno 1 si semplifica, quindi qui dovrei avere la sommatoria degli x con i meno x segnato per y non i meno y segnato, ma in effetti sembra un po' diverso da questa. Com'è che questo è uguale al numeratore di questa cosa qui? Beh, non è difficilissimo da vedere. Se voi prendete questa sommatoria, la potete scrivere, ricopiate questo pezzo uguale, qui sottraete questo, la sommatoria degli x con i meno x segnato e y segnato, e addizionate la stessa cosa, la sommatoria degli x con i meno x segnato per y segnato, quindi ho aggiunto e tolto la stessa cosa. Mettendo assieme questi due termini ho il numeratore della covarianza campionaria e qui tengo l'y segnato fuori dalla sommatoria, ho la sommatoria degli x con i meno x segnato, ma come avevamo visto prima, questo è uguale a 0, quindi effettivamente questo è nient'altro che il numeratore, diciamo, della covarianza campionaria, che naturalmente non va interpretata come una covarianza, ma è semplicemente un modo sintetico per scrivere questa formula. Ecco, a questo punto siamo pronti per calcolare la stima ai minimi quadrati, quindi scrivo il mio θ ls, qui ho la matrice diagonale da invertire, qui ho il phi trasposto y, l'inversa di una matrice diagonale è la matrice che ha sulla diagonale le inverse dei singoli elementi, quindi 1 su n, qui 1 su n meno 1 s quadro x, questo rimane uguale, poi faccio prima riga per prima colonna, la n si semplifica, seconda riga per la prima colonna, c'è una colonna sola, in questo caso l'n meno 1 si semplifica, mi rimane xxy diviso s quadro x. Ecco, quindi da questo punto di vista effettivamente abbiamo trovato un risultato anche abbastanza facile da memorizzare, cioè il primo parametro, semplicemente la media aritmetica delle y, delle osservazioni, delle uscite, e invece il parametro del coefficiente angolare, in pratica, il coefficiente angolare rispetto a x meno x segnato, insomma, avendo fatto quel cambio di coordinate, è dato da questo sxy su s quadro x. Ecco, quindi questo è il nostro modello, l'y cappello, ecco, una volta che ho il modello, naturalmente io posso prevedere il valore della y in corrispondenza di una x generica, quindi ho l'equazione di una retta, al posto di θ1ls e θ2ls inserisco quello che ho stimato, y segnato, sxy su s quadro x. Ecco, la cosa, questo uguale potete anche, si può togliere, non c'entra niente, una cosa interessante è che posso riorganizzare questa formula in un modo particolare, cioè posso portare y segnato a sinistra, poi divido sinistra e destra per sy, quindi per la deviazione standard campionaria, così, e questo s quadro x lo divido in due pezzi, uno lo lascio qui sotto e l'altro lo metto sotto qui, sotto x meno x segnato, quindi ottengo questa formula che è abbastanza interessante perché questa è una specie di y di predizione standardizzata, quindi la y cappello è la previsione di y, ma se io faccio y cappello meno la media diviso la deviazione standard è come se andasse a prevedere la standardizzazione della y. Naturalmente qui è tutto usato in maniera un po' impropria perché non essendo variabili casuali, diciamo, la standardizzazione è la standardizzazione intesa come formula aritmetica di standardizzazione, non come standardizzazione che poi produce una variabile casuale con certe caratteristiche. E questa è la standardizzazione di x, quindi se io predico la standardizzazione di y usando come input la standardizzazione di x ho una relazione molto semplice, un solo coefficiente che è dato da questo sxy diviso sx su sy. Ecco, questo coefficiente che vedete qui è il coefficiente di correlazione campionario perché ho preso la covarianza campionaria e lo divisa per le deviazioni campionarie di x e di y. E effettivamente questa qui è la formula che viene usata per stimare a partire dalle osservazioni il coefficiente di correlazione. E' interessante per cui la previsione in variabile standardizzata è uguale al coefficiente di correlazione campionario per la variabile indipendente standardizzata. Ecco, qui ho richiamato la formula della covarianza campionaria che avevamo già visto. Ecco, credo che valga la pena di fare un paio di osservazioni. Allora, una prima osservazione è questa. Proviamo a definire x tilde y tilde i come le variabili standardizzate, quindi x con i meno x segnato diviso sx, qui ci vuole un segnato, scusate, e qui yi meno y segnato, anche qui ci vuole un segnato, diviso s y e disegniamo la retta di regressione che abbiamo trovato nel piano delle variabili standardizzate. Allora, nel piano delle variabili standardizzate abbiamo appena visto che l'equazione della retta di regressione che qui disegno in rosso è y tilde cappello, perché so che è la previsione della variabile standardizzata che è esattamente questa, questa qui è la y tilde cappello a tutti gli effetti, è uguale a questo coefficiente di correlazione campionario per la x tilde, la variabile x standardizzata. E ora, c'è un dato interessante, voi ricordate che il coefficiente di correlazione, quello teorico, quindi covarianza diviso prodotto delle direzioni standard, è sempre per sua natura in modulo minore di 1, ecco, minore uguale a 1. Si dimostra che anche la sua stima campionaria gode della stessa proprietà, cioè è in modulo sempre minore uguale a 1. questo significa che il modulo della y tilde cappello è sempre minore uguale al modulo della x tilde. Quindi se io guardo questa retta e la confronto con la retta a 45 gradi, quando il coefficiente angolare è positivo, questa retta ha sempre una pendenza inferiore a 45 gradi. Quindi quando io ho una certa x tilde, la previsione che faccio per la y tilde è sempre in modulo minore uguale, è sempre minore uguale della previsione per la x tilde quando il coefficiente angolare è positivo. Naturalmente c'è anche l'altro caso in cui il coefficiente angolare sarà negativo, ma diciamo vale lo stesso tipo di proprietà semplicemente tenendo conto dei segni. Ecco, in qualche modo vuol dire che se io ho un x tilde positiva ho un valore superiore alla media, perché ricordate che questa origine è sostanzialmente, corrisponde x segnato alla media, quindi x tilde positiva vuol dire delle x superiori alla media. E quindi se ho un x tilde superiore alla media, che è positiva, viene fuori che anche la y tilde cappello è positiva, quindi è superiore alla media, ma è in modulo minore uguale della x tilde, quindi non così tanto superiore alla media. Quindi è un pochino più mediocre, dove per mediocre intendiamo più vicino alla media. Ecco, questo fenomeno fu scoperto per la prima volta da Francis Galton, intorno al 1877, e lui diede il nome a questa strana proprietà, le diede il nome di regression to mediocrity, regressione alla mediocrità. Lui stava studiando problemi di eugenetica, quindi stava studiando come le altezze dei figli dipendono delle altezze dei padri. E sostanzialmente nel suo caso le x e le y erano veramente delle variabili casuali, e quindi x tilde era la statura normalizzata del padre e y tilde la statura normalizzata del figlio. E quindi se il padre era più alto della media, anche il figlio era più alto della media, ma non così tanto più alto. Quindi una volta che standardizzavo si scostava dalla media, ma non quanto il padre. Viceversa, se il padre era più piccolo della media, quindi x tilde negativo, anche il figlio aveva un y tilde negativo, la previsione del figlio era un y tilde negativo, ma non così tanto negativa come il padre. Quindi era un po' più bassotto rispetto alla media, ma un pochino più tendente alla media. Ecco, questo fenomeno in maniera suggestiva fu chiamato regressione alla mediocrità. Dal punto di vista di Galton probabilmente poteva anche non essere positivo, nel senso che avrebbe voluto per esempio preservare i tratti eccezionalmente positivi, mentre invece qui i tratti eccezionalmente positivi sembravano rientrare verso la media e anche quelli eccezionalmente negativi sembravano rientrare. All'inizio fece delle ipotesi anche un po' strane sul meccanismo addirittura in qualche modo biologico alla base di tutto questo, poi alla fine dovete riconoscere che era solo un fenomeno statistico, nel senso che succedeva esattamente perché il coefficiente di correlazione è sempre in modulo minore o uguale a 1. La cosa interessante è che questo termine di regressione alla mediocrità che ha a che fare con lo studio delle stature e col fatto che le proprietà eccezionali dal punto di vista, in qualche modo da quell'epoca non c'era la genetica come la conosciamo noi, però le proprietà ereditarie, che l'ereditarietà non preserva l'eccezionalità degli individui, così questo background abbia dato il nome alla regressione lineare, noi la chiamiamo regressione lineare proprio a causa di questi studi di Francis Galton, che è uno dei padri della statistica, ma che in prima istanza non aveva ben capito il fenomeno, infatti dopo un po' dovette ricredersi e capire che non c'erano fenomeni particolari nei meccanismi ereditari, ma che aveva scoperto soltanto un fenomeno puramente statistico legato alle proprietà dei coefficienti di correlazione in ultima analisi. Ecco, un'altra osservazione è che la formula per la regressione lineare che abbiamo trovato ha la stessa struttura di quella per il valore atteso condizionato di variabili casuali congiuntamente gaussiane, quindi se voi tornate a quella lezione troverete che il valore atteso di y dato x, standardizza meno my su sigma y, quindi in qualche modo in coordinate standardizzate, era uguale al coefficiente di correlazione per la x standardizzata. Ecco, in qualche modo si ripropone la stessa struttura. Qui avete i veri momenti, quindi questi sono momenti calcolati come integrali, insomma, la loro definizione di momenti d'insieme, momenti teorici. Qui invece si lavora con tutte quantità campionarie e che almeno possono essere interpretate come stime dei momenti se x e y sono variabili casuali congiunte. Però, come nell'esperimento della saldatura, x e y potrebbero anche non essere variabili casuali congiunte, quindi potrebbe avere un esperimento in cui sono io che decido le x, però dal punto di vista formale la formula rimane sempre questa. Questo è anche di aiuto dal punto di vista mnemonico, nel senso che una volta che avete imparato questa diventa facile ricordare anche la regressione lineare semplice. Ecco, il risultato finale è questo, come potete vedere, quindi θ1 LS 96 57, θ2 LS 11 66 e avete la retta che avevamo già disegnato. Ecco, per il momento non stiamo facendo particolari ipotesi statistiche, però per quanto il modello sembri abbastanza buono e convincente, piacerebbe avere qualche indice di affidabilità e quindi, per esempio, poter anche capire di quanto possono variare i miei parametri. Cioè, questo 96 57 potrebbe essere 100, potrebbe essere 80, diciamo che grado di incertezza. Ecco, per dare risposta a questa domanda devo ragionare in termini di intervalli di confidenza e per parlare di intervalli di confidenza, come vedremo tra un attimo, devo passare a un'analisi probabilistica. Quindi devo fare delle ipotesi sulla proprietà statistica, in particolare faremo delle ipotesi sulle distribuzioni di probabilità degli errori v con i.